Ben trovati al meteo. Ancora qualche cenno di instabilità sul nostro territorio, ma vediamo che cosa dovremo aspettarci nella giornata di mercoledì 2 settembre. Sul Veneto condizioni decisamente variabili, cielo localmente nuvoloso alternato a momenti più soleggiati, non mancherà nemmeno qualche precipitazione specialmente sui rilievi alpini, ma possibile anche fin verso le pianure limitrofe. Temperature in calo minime tra 12 e 18 gradi, massime invece tra i 21 e i 26 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia, Giulia, qualche nube al mattino alternata a Schiarite, nel pomeriggio occasionali acquazioni in montagna e sulle zone circostanti. Temperature minime fino a 17 gradi, massime sui 23-25 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui tempo spiccatamente instabile con precipitazioni sparse e momenti invece più asciutti e con più sole. Temperature minime sui 12 gradi, massime fino a 23 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.